Paolo Branduani, benvenuto innanzitutto a Teramo. Di fatto ti sei ufficializzato da solo con quel post in cui ringraziavi i tifosi della SPAL di fatto e annunciavi di essere un nuovo giocatore del Teramo. Arrivi a Teramo per riprenderti quel posto da titolare che forse alla SPAL non avevi più garantito. Sì, perché come ho detto avevo voglia di giocare con continuità. Ovviamente adesso stare a me qua a cercare di far bene, di mantenere il posto e di conquistare. L'unico, tra virgolette, problema è quello di conoscere un ambiente nuovo, ma sicuramente mi stanno aiutando a integrarmi subito. Quindi non ci sono grossi problemi perché alla fine quando si scende in campo siamo una squadra tutta unita. Senti, una telefonatina a Spighi tra la sua ufficializzazione e la tua gliel'hai fatta per sapere come si era trovato. Sì, mi ha chiamato lui, infatti tra virgolette è stato anche lui l'intermediario per il mio arrivo qua. Però non c'era bisogno, comunque il mister, la piazza e tutto sono dei bei posti e l'ho accettato con entusiasmo. Domenica c'è questa partita contro il Modena, è difficile adesso immaginarla la partita, però possiamo immaginare che tipo di partita sarà conoscendo un po' il mister che sta dall'altra parte, Capuano, che comunque preparerà una gara con molte trappole, sei d'accordo? Tutte le partite contro di lui sono una guerra, preparerà l'ambiente, caricherà l'ambiente, caricherà lui le partite, caricherà ogni giocatore al massimo per cercare di strappare dei punti e finora dal suo arrivo a Modena sicuramente ha fatto bene. Ti faccio l'ultimo, un po' fuori contesto. Voi giocherete domenica a Modena, qualche ora prima sabato sera, un tuo ex compagno di squadra come Cerri potrebbe giocare titolare a San Siro contro l'Inter? Guarda caso è stata una squadra che fa parte del tuo curriculum, come lo vedi Cerri in questa esperienza in Serie? Beh sicuramente avrà delle difficoltà perché comunque è passato da Serie B alla Serie A, però sicuramente penso che lui possa fare bene perché fisicamente c'è, le doti ce le ha, deve solo trovare un po' di cattiveria e capire bene la forza che ha perché non se ne rende conto ne ancora lui.